Ciao a tutti lettrici e lettori, bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Io sono Alessia e qui su Alibrary parliamo di libri. Interrompiamo la serie infinita di video dedicati al premio strega e oggi facciamo un video un po' più light, un po' più chiacchiericcio. Infatti vorrei condividere con voi le mie 5 letture sotto l'ombrellone. È ormai scoppiato il caldo, ormai scoppiata l'estate e l'estate si sa sia che si vada al mare, sia che si vada in montagna, sia che si vada a visitare una città o che si resti a casa, è periodo di vacanza, periodo di relax e di conseguenza si dedica più tempo alla lettura. Perlomeno per me è così. Quindi voglio condividere con voi i criteri in base ai quali scelgo i miei libri sotto l'ombrellone. Ovviamente non li leggerò tutti fisicamente sotto l'ombrellone, però insomma ci siamo intesi TBR estate 2021. Mi raccomando se già non l'avete fatto, se vi va di sostenere il canale, cliccate sul pulsante iscriviti e attivate la campanella per restare sempre aggiornati con i miei contenuti. Qui sotto nell'infobox trovate poi i link ai miei social e al mio blog e trovate anche i link per acquistare direttamente su Amazon i libri di cui parlo nei miei video. Ma andiamo con la lettura numero 1. Di solito durante l'estate ne approfitto per recuperare quei libri che sono entrati a far parte della mia wishlist da tempo o che magari ho anche già acquistato da tempo, ma che ho sempre rimandato perché particolarmente voluminosi o perché particolarmente impegnativi. Insomma, dal momento che d'estate ho più tempo a disposizione e ho la mente un po' più sgombra, ne approfitto per recuperare appunto quelle letture che non me la sono sentita di affrontare in pieno anno scolastico. Quest'anno ho due possibili alternative, anzi magari datemi voi un consiglio o scrivete quale dei due libri vi interessa di più, così magari anch'io oriento la mia scelta. I due libri in questione sono Ragazza, donna, altro di Bernardine Varisto, che se non sbaglio ho acquistato all'inizio dell'anno, è un libro di cui ho sentito parlare benissimo ma che alla fine non ho più letto, che alla fine ho sempre rimandato e mi piacerebbe appunto leggerlo in queste settimane estive. In alternativa c'è anche lui, il cardellino di Donna Tart. Donna Tart, lo sapete, è un'autrice che mi ha stregato l'anno scorso, l'estate scorsa, con Dio di Illusioni. Dopo aver letto Dio di Illusioni ho subito acquistato il cardellino, ma come vedete la mole è abbastanza impegnativa e di conseguenza l'ho sempre rimandato e quindi anche questa potrebbe essere una valida alternativa. Entrambi i libri, come vedete, un po' voluminosi, non proprio ideali da mettere in valigio, da portare sotto l'ombrellone, quindi mi sa che questi me li leggerò spaparanzata sul divano davanti al ventilatore acceso a palla. Seconda lettura estiva, di solito durante l'estate mi ritaglio un po' di tempo per dedicarmi alla lettura di libri d'evasione, di libri relax, io li chiamo libri relax e di solito mi concedo qualche bel giallo. Non leggo spessissimo gialli proprio perché li considero letture d'evasione, letture relax e di conseguenza leggo gialli, fondamentalmente durante le vacanze di Natale oppure durante le vacanze estive. E per quest'anno ho pensato di recuperare Le sette morti di Evelyn Archessol. Non ricordo l'autore, però ricordo che il libro è stato pubblicato da Neripozza, ha avuto grandissimo successo, l'hanno letto praticamente tutti, manco solo io, e di conseguenza mi sono detta dai, quest'estate concediamoci Evelyn. Andiamo con la lettura numero 3. Di solito durante l'estate mi piace recuperare qualche classico. Ovviamente ho una lista infinita di possibilità, ma penso proprio di portarmi, questa volta sì effettivamente sotto l'ombrellone, il giocatore di Dostoevsky. È abbastanza snello, poco voluminoso, l'avevo acquistato l'anno scorso con gli sconti Feltrinelli, la copertina è abbastanza oscena, ma insomma ce la facciamo andare bene. E niente, mi piacerebbe recuperarlo, questo effettivamente sì, sotto l'ombrellone. In generale comunque l'estate è il periodo dei classici, proprio perché sono abbastanza rilassato, la mente sgombra, come vi dicevo prima, e quindi mi dedico con più facilità ai classici e riesco a gustarmeli anche di più. Lettura numero 4. Di solito l'estate cerco anche di recuperare qualche bel saggio. In generale io leggo pochi saggi, riesco a leggerne pochi, dico sempre che vorrei leggerne di più, ma alla fine non lo faccio mai, però d'estate di solito riesco ad inserirne qualcuno. E in particolare quest'estate vorrei leggere questo, 21 lezioni per il ventunesimo secolo di Harari. Io di Harari ho già letto Sapiens, che mi è piaciuto tantissimo, e dopo aver letto Sapiens ho subito acquistato questo, ma anche in questo caso l'ho sempre rimandato. e di conseguenza penso proprio che quest'estate andrò a leggermi questo, anche perché mi piacerebbe utilizzarlo in classe l'anno prossimo. Ho una classe quarta, ragioneria, con cui mi piacerebbe fare qualche bel lavoro e a cui mi piacerebbe proporre qualche lettura interessante e questo potrebbe essere uno dei titoli papabili, ma giustamente prima me lo devo leggere io e di conseguenza potrebbe essere arrivato il suo momento. Quinta lettura, di solito durante l'estate mi concedo anche qualche ultima uscita, qualche sfizio, qualche novità e in particolare per quest'estate ci sono due titoli che ho recuperato, che ho già acquistato, ho già acquistati entrambi. Il primo è Clara e il sole di Ishiguro e il secondo è Prima persona singolare, guardate ancora incelofanato, di Haruki Murakami. Questa è una raccolta di racconti piuttosto breve, anche questo libro potrebbe starci bene nella borsa della spiaggia, potrebbe essere ideale da portare sotto l'ombrellone e di conseguenza penso proprio che me lo regalerò quest'estate. Bene ragazzi, questi sono i criteri in base ai quali abitualmente scelgo le mie letture sotto l'ombrellone. Ovviamente fatemi sapere quali saranno le vostre letture sotto l'ombrellone o consigliatemi qualche titolo secondo voi particolarmente adatto per la stagione estiva. E niente, io vi saluto, vi mando un bacione, un abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!